Buon pomeriggio cari amici. Anche oggi ci ritroviamo all'appuntamento con la lettura dal manoscritto ritrovato ad Acra di Paolo Coilo. Vi leggerò quest'altro brano. Si intitola Quali armi dobbiamo usare quando tutto è perduto? E' un uomo con la fronte segnata dal tempo e il corpo costellato di cicatrici che raccontavano le storie dei suoi combattimenti ha chiesto Quali armi dobbiamo usare quando tutto è perduto? Il copto ha risposto Le armi sono inutili allorché esiste la lealtà. Sono strumenti del male poiché non appartengono al corredo del saggio. La lealtà si basa sul rispetto che è un frutto dell'amore. L'amore scaccia i demoni che minacciano e guastano l'esistenza di ogni creatura e di ogni cosa e restituisce l'innocenza e la purezza allo sguardo. Se un saggio desidera indebolire qualcuno, si preoccupa di fargli credere di essere più forte. In tal modo l'altro considererà l'avversario dotato di maggior potere e cadendo nella trappola verrà sconfitto. Se un saggio desidera sminuire qualcuno, agisce per convincerlo a scalare la vetta più alta del mondo e per instillare in lui la certezza che a quel punto nessuna conquista gli sia preclusa. In tal modo l'altro riterrà di poter salire ancora e invece precipiterà nell'abisso. Se un saggio desidera spogliare qualcuno dei propri averi, si limita a coprirlo di legali. In tal modo l'altro sarà costretto a occuparsi di cose inutili e finirà per trascurare e perdere i suoi beni più preziosi perché sprecherà il proprio tempo in azioni vane. Quando un saggio ignora la mossa successiva dell'avversario, finge un attacco. Nel mondo tutti sono sempre pronti a difendersi già che vivono nella paura e nell'angoscia di non piacere al prossimo. Per quanto attento e capace, l'altro si mostrerà insicuro e reagirà all'assalto con una violenza smodata. In tal modo rivelerà il suo armamento consentendo all'antagonista di scoprire i suoi punti deboli. In quel momento il saggio deciderà se attaccare o ritirarsi perché conosce il tipo di combattimento che dovrà affrontare. E cosicché coloro che sembrano deboli e remissivi sconfiggono i nemici più feroci e forti conquistando la gloria. Sovente le persone sagge sconfiggono i guerrieri più valorosi anche se talvolta accade che questi battano i saggi. Di certo è assai meglio evitare ogni lotta e perseguire quella pace e quella giustizia che annullano le diversità tra gli esseri umani. Chi è stato ferito deve sempre chiedersi è giusto che riempia il mio cuore di odio e che mi trascini un simile peso lungo il cammino della mia esistenza? Colui che rifiuta di trasportare quel fardello si affida a uno dei doni più grandi dell'amore Il perdono non baderà le offese proferite nel vivo della battaglia giacché il tempo presto le cancellerà proprio come il vento si premura di far scomparire le orme sulla sabbia del deserto. Quando il perdono si manifesta l'offensore prova un enorme senso di umiliazione per l'errore commesso e all'improvviso si trasforma in un individuo leale. Ecco perché è importante avere la consapevolezza di ogni forza strumento o metodo di cui disponiamo in ciascuno di essi possiamo trovare una soluzione sincera ai nostri problemi. Il vero eroe non è l'individuo votato ai grandi imprese bensì chi è riuscito attraverso le piccole cose a costruirsi uno scudo fatto di lealtà. Quando salverà la vita all'avversario e lo strapperà al tradimento la probità del suo gesto si perpetuerà per l'eternità. Il vero amante non è colui che dice tu hai bisogno di stare accanto a me e io avverto la necessità di prendermi cura di te perché siamo leali l'uno verso l'altro. Bensì il vero amante è chi comprende che è possibile dimostrare la propria lealtà soltanto in presenza della libertà. Chi non teme il tradimento accetta e rispetta il sogno dell'amato confidando nell'immensa forza dell'amore. Il vero amico non è la persona che afferma mi hai ferito e perciò sono triste invece è colui che dice mi hai ferito per motivi che ignoro e che forse non conosci neppure tu eppure so che domani potrò contare ancora sul tuo aiuto e così non sarò più afflitto. L'amico replica sei un uomo leale perché hai saputo esprimere ciò che sentivi non esistono individui peggiori di quelli che confondono la lealtà con l'accettazione passiva degli errori altrui. Le armi più tremende non sono la lancia o la catapulta che possono squarciare il corpo e distruggere le mura l'arma più potente è la parola che demolisce una vita senza versare nemmeno una goccia di sangue e le cui ferite non si cicatrizzano mai. Ecco perché dobbiamo sforzarci di dominare la nostra lingua per non diventare schiavi delle parole quando vengono usate contro di noi impariamo a evitare il combattimento giacché non ci sarà mai un vincitore scegliendo di porci a livello di un avversario vile ci ritroveremo a lottare nell'oscurità e a trionfare sarà inevitabilmente il signore delle tenebre. La lealtà è una perla celata tra milioni di granelli di sabbia soltanto coloro che comprendono il suo significato profondo sono in grado di scorgerla. Chi diffonde la discordia non riuscirà mai a vedere quel piccolo gioiello che tiene uniti coloro che confidano nell'amicizia e nell'affetto anche se si ritroverà a passare per quel luogo un'infinità di volte. La lealtà non può mai essere imposta con la forza né con la paura o con l'incertezza o con l'intimidazione la lealtà deriva da una scelta che solo gli spiriti forti hanno il coraggio di fare e poiché frutto di una decisione fortemente meditata non si mostra mai tollerante con il tradimento pur rivelandosi sempre generosa verso gli errori essere leali è qualcosa che resiste al tempo e ai conflitti passeggeri. Fine della lettura e grazie per l'attenzione ci ritroviamo alla prossima buona serata